accidenti ci siamo fermati e si lo vedo cosa è successo non lo so proviamo a capirlo e tu cosa cacchisci non lo so non sono un meccanico e nemmeno io ora dobbiamo chiamare il carattrezzi ma prima di chiamare il carattrezzi vediamo se riusciamo a risolvere il problema ma che ne sai tu non lo so te lo dice godino fare l'auto elettrica ma l'abbiamo fatto per l'ambiente ma chi se ne frega dell'ambiente ma dai foxy e poi tu sei un animale no no sono un animale io sono molto più intelligente di un animale sì vabbè sono un animale furgo tutti gli animali sono scemi tranne te certo è ok vabbè quanto consuma i carattrezzi i carattrezzi di carburante consuma no no di carburante e di cosa quanto costa di soldi ah di soldi e caro ma credevo ti riferissi al carburante chi se ne frega del carburante comunque cerchiamo di capire quale potrebbe essere il problema io qui non vedo niente ecco cos'è successo cosa guarda lì siamo rimasti a secco a secco cioè si è scaricata la batteria idiota e lo so ora cosa facciamo ora ci mancava pure il temporale sì non possiamo nemmeno uscire allora io ho un'idea hai un'idea sì e qual è l'idea prendi il piede di porco il piede di porco sì qui dietro ma cosa ti fai col piede di porco e perché l'hai messo in macchina perché mi serve ma ancora vai a rubare certo non lo ascoltate zitto vabbè dov'è questo piede di porco accoggi il volante e il volante e toglilo e vabbè ok il volante mobile vai moghiti dov'è il piede di porco e lì sotto dove lì qui sì accidenti non prendete esempio da lui sì invece sì al giorno d'oggi bisogna andare a no zitto allora cosa devi fare lo sai no non ho capito cosa devo fare mettila fuori dal finestrino questo sì dai muoviti ok fuori fuori sì ok così così sì e ora che devo fare e ora aspetta devo aspettare basta sì va bene aspettiamo guarda lì guarda lì cosa è successo guarda caspita visto abbiamo fatto il pieno giusto questa cosa mi ha elettrizzato ti ha elettrizzato sì a te certo a lui oh 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 overhe Grazie a tutti.